buongiorno oggi siamo a Tascoli Piceno guardate qua vi faccio vedere per non una nuova installazione anche oggi che le altre installazioni abbiamo già fatte e anche oggi facciamo un ampliamento un ampliamento di un impianto fotovoltaico per un centro estetico si è un impianto che avevamo già fatto noi circa un anno fa adesso la cliente ha bisogno di più energia quindi noi andiamo ad aumentare l'impianto come ve lo faccio vedere ma quello che vi voglio far vedere oggi faremo una piccola parte perché alcuni pezzi ci stanno arrivando quindi oggi iniziamo mettiamo intanto i pannelli ma quello che vi voglio spiegare è che questa cliente ha fatto il noleggio operativo per la sua azienda sì si può fare anche il noleggio operativo per l'impianto i fotovoltaici quindi oggi vi spiego un po quello che è stato fatto andiamo come sempre a forrare il tetto vi faccio vedere una parte dell'impianto eccolo questo diciamo che è solo una parte dell'altra su quell'altra parte del tetto è già un bell'impianto da 11 kilowatt e noi andiamo aggiungere altri kilowatt quindi iniziamo oggi una nuova installazione e vi spiego pure un po che cos'è il noleggio operativo allora abbiamo fatto poi andare a mettere resina e silicone come sempre tutto allora impianto montato pannelli pure e nei prossimi giorni arriveranno invertere batterie quindi andremo a concludere l'impianto e poi vi faccio vedere un po che cos'è il noleggio operativo allora eccoci qua siamo tornati in ufficio giornata di installazione terminata e quindi ovviamente mi mancano un po di materiale che mi stanno arrivando perché mi stanno arrivando nuove novità soprattutto nel campo di inverter e batterie quindi iscriviti al canale lascio like segui tutti i miei nuovi video perché arriveranno dei nuove delle nuove attrezzature dei nuovi inverter dei nuove delle nuove batterie che in italia si conoscono molto poco sta entrando adesso nel mercato italiano e noi saremo non i primi ma ci stiamo avvicinando per la nostra regione per diciamo per il centro market quindi quindi rimanete collegati ma adesso vi spiego un po come funziona il noleggio operativo in pratica il noleggio operativo è una formula di acquisizione particolarmente diffusa nel settore aziendale che consente di utilizzare attrezzature e senza doverle acquistare in pratica è un contratto di locazione a lungo termine che prevede il pagamento di un canone mensile o periodico per un determinato periodo di tempo allora il suo funzionamento c'è l'acquisizione del bene cioè l'azienda o il professionista sceglie il bene necessario come ad esempio il un impianto fotovoltaico attrezzo due macchinari quello che sia poi c'è un contratto di noleggio che si stipola con un fornitore o una società di leasing la quale rimane proprietaria del bene poi ci sono i pagamenti pagano una quota fissa due per la durata del fin di tutto il contratto e alla scadenza si può scegliere di restituire il bene rinnovare il contratto acquistare il bene con il valore residuo quindi come se acquisti la macchina diciamo quali sono i vantaggi in pratica sono zero investimento non è necessario un grande sborso di capitale per l'acquisto del bene poi la gestione semplice finanziaria semplificata i canoni di noleggio sono pianificabili e prevedibili ci sono le manutenzioni che spesso nel contratto viene inclusa all'assistenza alla manutenzione e poi i benefici fiscali che possono essere dedotti come costi operativi poi al termine del contratto puoi sostituire il bene con uno più moderno o performante e quando è utile il noleggio il noleggio in pratica è vantaggioso per le aziende professionisti che vogliono ridurre l'immobilizzazione dei capitali e che operano nel settore delle tecnologie il rapido aggiornamento e desiderano mantenere una gestione finanziaria flessibile necessità di beni per un uso di tempo limitato quindi in pratica non è che vai a acquistare subito il bene ma il bene è acquistato da una società e questa società ti tu paghi le rate a questa società come se compri una macchina se compri il telefono a rate come sempre puoi farlo anche a noleggio operativo al telefono computer quello che sia ormai in questo mondo ormai nel business se vogliamo essere aggiornati sempre con computer telefonini e molto altro e puoi farlo anche con l'impianto fotovoltaico quindi se vuoi saperne di più qui sotto ti lascio il link in descrizione per potermi contattare per per avere più informazioni ovviamente parlerai con il mio consulente potrai parlare con il mio consulente abbiamo se sei della zona possiamo fare anche un appuntamento dedicato se hai un'azienda abbiamo anche la possibilità di accedere ai dei bandi che vi parlerò nei prossimi video quindi ci vediamo ai prossimi video mi raccomando se vuoi più informazioni iscriviti qui sotto lascio like iscriviti al canale e ci vediamo ai prossimi video ciao